Sgancia la grana, cinese sgancia la grana, sgancia la grana, cinese sgancia la grana Com'è sta storia? Com'è sta storia? Eh? Siamo i più ricchi del mondo, prendiamo Tizio, prendiamo Caio e Sempronio e adesso avete la tirchieria di non offrire 20 milioni per Edin Dzeko? Com'è sta storia? Perché volete fare i tirchi proprio con noi? Sentiamo, sarà che ormai abbiamo preso la nomea di squadra che regala i giocatori Lo posso accettare, ma da una società, soprattutto dalle voci dei tifosi, che si vanta di essere una delle più ricche al mondo capace di spendere centinaia, decine di miliardi di milioni per fare la squadra non riesce a spendere 7 milioncini in più per portarsi a casa Edin Dzeko, voluto dallo stesso mister Conte Com'è sta storia? Mi spiegate un po'? Per quelli che non l'hanno capito A quanto pare la trattativa con Edin Dzeko, tra Roma e Inter, sia un attimo bloccata perché a quanto pare l'Inter non vuole andare oltre i 12 milioni barra 13 offerti finora alla Roma mentre invece la società giallorossa valuta l'attaccante bosniaco 20 milioni Capite un po' il discorso, no? Cioè, a me dà fastidio sinceramente questa cosa perché è ok che ognuno fa le proprie valutazioni, è ok che all'inizio di un affare si cerca sempre di guadagnare o comunque di risparmiare qualcosina però se effettivamente l'Inter è uscita da questo fair play finanziario e dà una disponibilità economica per fare gli acquisti che vuole per quale motivo deve venire a fare la tirchia con noi? Cioè, ok, la stagione di Dzeko non è stata certa esaltante e sicuramente l'età non è dalla sua parte ma parliamo comunque di un attaccante che in 4 anni è riuscito a diventare uno dei 10 attaccanti, non mi vorrei sbagliare, più prolifici nella storia della Roma tra poco arriverà a 100 gol in Serie A in 5 stagioni e non è poco quindi capisco tutto quante le volontà e tutto capisco che gran parte dei soldi vanno all'ingaggio del giocatore eccetera eccetera ma mi volete veramente far credere che un giocatore come Dzeko vale effettivamente poco più di 10 milioni che col mercato attuale con 10 milioni non ti prendi neanche un difensore promettente del 2001? E che cazzo? Cioè a me mi dà fastidio questa cosa perché l'Inter può benissimo permettersi di spendere questi soldi e secondo me è anche la cifra giusta cioè poi tra l'altro vogliono fare i tirchi con noi e noi chiediamo ai giocatori importanti loro ce ne chiedono 4-5 ce ne chiedono cioè capite adesso magari sono anche parecchie invenzioni dei giornali però allora la Roma cioè l'Inter vuole dalla Roma Florenzi Florenzi prima voleva Manolas poi vuole Sharawi vuole Edin Dzeko o Alexander Kororov cosa offrono loro? D'Albert! D'Albert! Porca troia cioè già dopo Sant'Antonio se volete ancora continuare a piapere il culo? D'Albert? Ma stiamo a scherzare? Cioè questi neanche vogliono darci pinamonti? Cioè considerano pinamonti di pari livello se non più forte di Dzeko? E non riescono a darci 20 milioni per acquistare il bosniaco? Voluto proprio dallo stesso mister? Cocchini! Oh! Sghei! Tirate fuori il cash! Cioè come dice il Keiko Zalone Don't play to the house of the player! Cash! Cash dovete dare! Perché se vi vantate tanto di essere tanto ricchi, tanto fantastici, li dovete spendere sti soldi non fare i tirchi e per Dzeko 11-12 milioni! Ma che cazzo? Io ne volete dare 6 all'anno e non ce ne volete dare 20 a noi? E ci proponete a giocatori improponibili? Soltanto per liberarvene il più possibile? Io capisco che vi abbiamo fatto tanti favori tra i vari Santon, tra i vari One Jesus, che comunque è indiscretto giocatore ma basta! Basta cocchini miei! Perché se voi per i cardi volete mezza squadra nostra allora potete benissimo avere i soldi per poter acquistare i nostri giocatori se volete i nostri giocatori spendete, tirate fuori i soldi, tirate fuori il cash perché ce l'avete, ci avete tanti soldi, spendeteli perché noi non ci pieghiamo davanti a nessuno poi magari lo cederemo comunque per poco più di 14 milioni ma intanto dovete rispettare la nostra scelta perché siamo noi ad avere il diritto sul cartellino del giocatore non è che il giocatore va in scadenza a zero adesso ci andrà il prossimo anno, quindi la Roma può benissimo decidere di lasciarlo a zero il prossimo anno con un anno in più sulle spalle e probabilmente tanta panchina dopo potete pure prenderla a zero ma non so quanto può essere vantaggioso quindi cari interisti, cara società nerazzurra fate bene i vostri conti, fateli bene e soprattutto abbiate rispetto della nostra società che sarà incasinata come vi pare, quello che vi pare, ma merita comunque rispetto quindi se voi volete fare i tirchi con noi andate a cercare i giocatori da qualche altra parte ma se noi valutiamo un attaccante importante come Gekko sui 20 milioni è sacrosanto diritto che voi offriate quella cifra poi magari si arriverà anche ad un punto di incontro grazie anche alla volontà del giocatore non prenderemo probabilmente 20 milioni ma non fate i tirchi in questo modo, non vi è attaccato a un minimo milione 11, 12, soldi, cash, soldi ce li avete, no ce li avete, spendeteli è inutile che ve li tenete, che fate i braccini corti no, spendete i soldi, braccini corti, citazione detto questo ragazzi allora era un mio piccolo sfogo, se così possiamo dire riguardo la trattativa che si è bloccata tra Edin Gekko e l'Inter volete il nostro attaccante? prendetelo tranquillamente date i soldi, dare moneta, vedere cammello e spero che questo discorso sia stato chiaro un saluto e sempre Forza Roma grazie a tutti